Gli uomini hanno bisogno della speranza per vivere e hanno bisogno dello Spirito Santo per sperare. Papa Francesco ha dedicato ancora la Catechesi dell'Udienza Generale al tema della speranza, intrecciandolo questa volta allo Spirito Santo. Così, se la prima è paragonabile a un'ancora o una vela, il secondo è il vento che ci sospinge verso il largo o verso la riva, il vento che ci mantiene in cammino, ci fa sentire pellegrini e forestieri e non ci permette di adagiarci e di diventare un popolo sedentario. Lo Spirito Santo dunque ci rende capaci di sperare contro ogni speranza, dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e Suoi eredi e alimenta anche la speranza all'interno dell'intero creato, invitandoci ad averne rispetto. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi, come Lui, e grazie a Lui, dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli. Seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può seminare perplessità, e questo non è cristiano. E tu, se fai questo, non sei un cristiano. E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati, ad avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro paraclito, cioè consolatore e difensore. Come lo Spirito Santo si fa per ognuno di noi che stiamo qui in piazza, consolatore e difensore. Come lo Spirito Santo si fa per l'intero creato.